Il nostro fondatore è il beato Giovanni Battista Scalabrini, che ha vissuto e diretto la diocese di Piacenza nel 1800, durante un'epoca molto importante per noi discendenti di migranti italiani. Nel 1887 Scalabrini si è trovato a Milano con un gruppo di migranti che venivano giù da Belluno, dal Veneto, da Treviso, da Padova, da Vicenza. Si è trovato con questo gruppo di migranti nella piazza di Milano che aspettavano il treno che li porterebbe a Genova per poi prendere il bastimento e partire verso le Americhe. In uno di questi bastimenti sono partiti i miei noni, il nono da Vicenza, Tese sul Brenta, e la mia nonna da Taibon dal Gordino. Erano piccoli, avevano appena tre anni, quattro anni il nono e quattro anni la nona, che con i bisnoni partivano verso l'America e sono arrivati nel paese del Brasile, allo stato del Rio Grande do Sul, nel 1891. I bisnoni con questi due figliolini piccoli, che dopo si sono trovati, Giuseppe Vicentino con Margherita Belunese, sono trovati come fidanzati, si sono sposati e hanno avuto dieci figli. Di questi dieci figli, il primo è il mio padre Pietro e il papà Pietro, dopo si è sposato con un'altra discendente di italiani, Lidia Cesca, che ha avuto anche lui, in questo matrimonio, dieci figli. Il primo sono io e la seconda è la mia sorella che è qui con me e un'altra sorella pure con me e siamo venuti proprio per visitare, grazie alla gentilezza e il favore di un parente lontano, Livio Benvenu, che ci ha portato a vedere questi paesi, questi luoghi dove sono partiti i nostri discendenti, i nostri antenati. Ecco, il nostro fondatore ha visto questo fenomeno della migrazione che partiva nel 1875 fino al 1900, presso a poco, e ha detto e ha pensato chi accompagnerà questi nostri italiani in America, chi salverà o li assisterà nella religione, nell'assistenza religiosa e ha pensato di fondare questa congregazione, la congregazione dei missionari di San Carlo per i migranti. Oggi questa congregazione è sparsa, è molto distesa in 31 paesi nel mondo. Siamo presenti nei cinque continenti, America del Nord, America del Sud, Africa, Europa e Asia. La presenza scalabriniana è molto distesa, però la presenza numerica non è così grande. Siamo appena 600 missionari. L'inizio è stata l'assistenza per gli migranti italiani, però dopo l'80, 1980, la congregazione ha disteso l'assistenza a tutti i migranti. Oggi siamo presenti in 31 paesi, in questi cinque continenti, dando assistenza religiosa e sociale a qualsiasi tipo di migrazione. Chiaro che la migrazione italiana ancora è presente nel Rio Grande do Sul, San Paolo, Nord America, New York, Chicago, questi paesi che hanno sviluppato la cultura, è stata la cultura italiana, assieme alla tedesca, prima un poco. Però oggi siamo presenti specialmente nei paesi dove la migrazione moderna è molto cresciuta. Sappiamo che oggi i migranti nel mondo sono circa 214 milioni. Di questi 214 milioni di migranti nel mondo sono presenti solo in America del Nord 63 milioni e l'Europa ha ricevuto negli ultimi vent'anni 73 milioni, fra cui anche l'Italia è un grande numero. E questo mi fa specie, perché l'Italia è stato un paese di emigrazione e oggi è un paese di immigrazione. In un momento in cui l'Italia non aveva le risorse per sostenere i suoi figli, hanno trovato il pane i loro migranti fuori e oggi tanti trovano il pane in questa patria, Italia. Ecco, la migrazione oggi è un fenomeno molto attuale e anche un po' drammatico. Sappiamo quanti soffrono, quanti non trovano casa, non trovano lavoro, non trovano neanche un paese che li accolga e molti di questi sono anche rifugiati. 20 milioni di migranti sono senza casa, senza patria e sono i cosiddetti rifugiati. Ecco, questa visione è un po' della migrazione. Un discendente di Taibon dal Gordino, la cui nona è nata qui, ritorna a vedere e a trovare il proprio luogo, le proprie radici. Ringrazio la TV belunese del Beluno, ringrazio questo nostro amico della libreria che ci ha accolti e Livio che ci ha portati a vedere questi nostri luoghi, dei nostri antenati. Che Dio benedica tutta l'opera dei belunesi nel mondo, perché sappiamo che i belunesi sono anche loro sparsi per tutto il mondo. Un grazie di cuore e che il Signore vi benedica.